Un'altra esperienza che ho fatto di recente è stato un trekking in Nepal che ho compiuto dal primo al 21 aprile del 2024. Qui ho tre oggetti significativi, sono le bandierine di preghiera tibetane, perché appunto il Nepal in quella zona è a confine con il Tibet, quindi risente molto dell'influenza tibetana, il classico berretto di lana, eccolo qua, e un pezzo del monte Everest. Allora, io nella mia vita mai avrei pensato di poter andare così lontano e così in alto, ma il destino mi ha presentato davanti l'occasione di poterci andare quando ho conosciuto delle persone durante un corso che organizzavano questi tipi di escursioni, di viaggi di trekking e io ho accettato subito, anche perché è il tuo anno che sono in pensione e di conseguenza io posso scegliere dove e quando poter andare in qualsiasi momento. Ecco, per cui non c'era niente che potesse impedirmi di poter andare con questo gruppo a fare il trekking sull'Everest. Allora, siamo partiti appunto il primo di aprile, abbiamo preso l'aereo, abbiamo fatto Venezia, Dubai, Dubai, Kathmandu e il giorno seguente direttamente siamo andati al punto di partenza del trekking che è il paese di Lukla a 2.800 metri. Bisogna dire che fare un trekking in Nepal e andare al campo base dell'Everest che si trova a 5.364 metri non è così impegnativo, cioè non è difficile da fare come percorso perché i sentieri sono larghi, non sono pericolosi, non sono mai esposti su dei borroni, non c'è niente da arrampicare. Vengono percorsi quotidianamente da muli, anzi da muli, da asini che portano materiale, vengono anche dagli yak che portano appunto sui viveri e da tantissimi portatori. Il problema non è appunto il percorso in sé ma è la risposta del nostro fisico all'altitudine. Io quando ho saputo che sarei andato in Nepal ho cominciato a prepararmi in questo senso fisicamente. Io sono già una persona che ama andare in montagna e di cui una certa forma di allenamento fisico ce l'avevo, per cui ho intensificato questa cosa in modo da essere pronto per poter affrontare un trekking così lungo e un dislivello così ampio. Però il corpo non può essere abituato all'altitudine se non con l'altitudine. L'altitudine provoca dei problemi seri che sono appunto il mal di montagna. Il mal di montagna si manifesta con mal di testa, nausea, vomito, difficoltà a dormire, mancanza di respiro. In alcuni casi gravi può portare a un edema polmonare o cerebrale. In questo caso bisogna assolutamente scendere il più presto possibile a valle per poter ristabilire un certo equilibrio. Io ero molto preoccupato per questa cosa, però non potevo sapere come regiva il mio corpo se non nel momento in cui mi sarei stato. Il gruppo con il quale sono stato è un gruppo di 11 persone, eravamo in 11, principalmente della zona di Padova. Eravamo tutti sopra i 60, quindi nessuno giovanissimo. Come dicevo, il primo giorno abbiamo preso un elicottero e siamo arrivati a Lucla. Lucla è un paesino di partenza dove è considerato l'aeroporto più pericoloso al mondo perché ha una pista di atterraggio che è lunga solamente 500 metri, che è in salita e che finisce contro il fianco di una montagna. Viceversa, nella fase di decollo invece, la troviamo in discesa verso un burrone. Da lì è cominciato il nostro trekking. Noi avevamo, ciascuno di noi aveva uno zaino con gli effetti personali per la giornata, avevamo con noi tre guide e a seguito anche sei portatori. Bisogna dire che i portatori sono veramente delle persone eccezionali. portano dei carichi incredibili. Tutto quello che viene portato su in quelle zone è portato o ad orso di animale o ad orso d'uomo. Veramente portano dei carichi che sono inumani per noi e anche con un'agilità sui sentieri che sembra veramente impossibile da manifestare. E oltretutto noi, per esempio, affrontiamo quei sentieri con gli scarponi, con tutto l'equipaggiamento necessario. Loro invece, molte di loro, salgono i sentieri di montagna con l'infradito, le ciabatte di plastica oppure, in un caso, ho visto anche gli stivali di gomma. I portatori, per esempio, noi siamo abituati a definire, a chiamarli scerpa. Ma in realtà scerpa non è il nome e non è un sinonimo di portatore perché scerpa è il nome del popolo che vive in quella valle. Per cui scerpa è il nome del popolo. Per definire un portatore si dice porter oppure portatore. Noi, appunto, dove dormiamo? Ogni sera arriviamo in una struttura che è fatta per i tracker. e questa struttura è una struttura di prefabbricato, eccetera, dove c'è una sala comune, di solito, con all'interno una stufa centrale che viene accesa la sera per riscaldare un po' l'ambiente. Ma non viene accesa di continuo, viene accesa solamente una volta e poi lentamente si spegne, giusto per impedire l'ambiente. Nella parte più bassa del percorso, diciamo sotto i 3.000 metri, c'è ancora la possibilità di trovare la legna e la vegetazione è tipica quella dei nostri boschi. Noi possiamo immaginare un 3.000 metri da noi qui dove non c'è nulla e invece in 3.000 metri nella catena dell'Himalaya è ancora completamente vegetata. Quindi la struttura viene alimentata con legna. Invece più su, quando il paesaggio comincia a cambiare, la stufa, ma non solo, tutti quanti i residenti usano come combustibile la cacca di yak essiccata. E questo è strano, la cacca di yak quando brucia non puzza, fa un po' di fumo ma non puzza. Per tutto il percorso, che è durato, il nostro trekking fino al campo base è durato 12 giorni, la dieta era vegetariana perché la carne era sconsigliata assolutamente da mangiare perché non aveva i requisiti igienici per poter essere mangiata perché non esistiva nessun sistema di refrigerazione e poi pensate che per portare sulla carne da sub doveva aver fatto 4-5 giorni di cammino sulle spalle di una persona. E questo ha inciso ovviamente un po' sulla nostra capacità fisica anche in una dieta vegetariana. Man mano che si saliva, ci sono stati, la prima volta a 3.800 metri, ci siamo fermati due giorni per l'acclimatamento. L'acclimatamento è una forma di, permette al corpo di abituarsi all'altitudine per cui ci si ferma in un luogo, si sale a una quota più alta, si ridiscende per dormire, il giorno dopo invece si riparte per una quota maggiore. Si sale ancora e poi a 4.000 e passa a metri ci siamo fermati una seconda volta per acclimatarci, quindi salire più su, scendere e dormire lì. Ovviamente man mano che si saliva il paesaggio cambiava, la vegetazione spariva, comparivano gli arbusti finché siamo arrivati in un ambiente completamente roccioso. Anche la temperatura ovviamente cambiava, mentre fino a 3.000 metri durante il giorno era possibile camminare con la maglietta a maniche corte, sopra i 4.000 metri cominciava a fare freddo, soprattutto il pomeriggio quando il sole spariva dietro le nuvole e si alzava il vento. Le temperature erano molto rigide, tenendo presente che faceva così freddo all'interno, le camere non sono riscaldate e all'interno della camera dove io dormivo spesso l'acqua della borraccia gelava, quindi è estremamente freddo. Le camere sono appunto due camere di solito a due letti con una piccola trapuntina, ognuno di noi aveva il suo sacco a pelo, all'interno del suo capelo si stava anche bene, ovviamente ben coperti. Abbiamo anche affrontato questo disagio per il freddo in maniera anche così stoica, ma però in maniera... ci siamo adattati. Il problema dell'altitudine, per fortuna non l'abbiamo sentito, a parte un leggero mal di testa intorno ai 4.000 metri, ma non abbiamo avuto dei sintomi gravi, se non a volte una difficoltà a dormire. La difficoltà a dormire appunto si manifestava proprio per il fatto che mancanza di ossigeno non permetteva un sonno ristoratore. Anche durante il giorno procedere e salire sopra dai 4.000 ai 5.000 metri e sopra, salire e procedere nel sentiero in una situazione così di carenza di ossigeno comportava una grossa fatica, per cui ogni passo si procedeva in modo lento, il passo era sicuramente lento, modulato e non c'erano strappi. il problema era appunto riuscire a compensare la fatica con la respirazione e la respirazione avveniva nel nostro caso sempre attraverso la bocca perché attraverso il naso non riuscivamo a ispirare la giusta quantità di ossigeno. Salendo, di quota ovviamente come ho detto la temperatura cambia e spesso nel palazzo pomeriggio comincia a nevicare. Infatti noi abbiamo trovato in tre occasioni, la sera cominciava a nevicare, la mattina dopo abbiamo trovato tutto coperto di neve. Questa cosa è stata, ha cambiato completamente il paesaggio ma comunque ci permetteva anche di godere di una visione diversa di quello che vedevamo attorno. Era straordinario percorrere queste lunghissime valli, ampie valli glaciali, attraversare dei ghiacciai, camminare sulle morene, essere attorniati da queste montagne altissime che sono degli 8.000 metri, da 6, 7, 8.000 metri tutti attorno e veramente tu dici ma io sono qua, che ci faccio qua, come sono capitato qui? È veramente incredibile che io sia qui in questa realtà così distante, così diversa dalla nostra. Finalmente dopo 12 giorni siamo... No, qui ho sbagliato. Allora, finalmente arriviamo al campo base dell'Everest che era la nostra meta e siamo tutti felici di essere arrivati lì, ovviamente a 5.364, che però non è la quota più alta che io raggiungerò perché salirò fino a 5.640. è una cosa incredibile, è stata un'esperienza fantastica. Da lì in poi, nei giorni seguenti, comincia il percorso di ritorno verso l'Ukla e quindi poi verso Kathmandu. Ma il percorso di ritorno non è un percorso tutto in discesa. Anche lì abbiamo dovuto attraversare morene, ghiacciai, salire di nuovo a 5.000 metri, ridiscendere, scendere in fondo valle, attraversare i ponti tibetani, risalire dall'altra parte, per cui non è, diciamo, rilassante il ritorno, è comunque impegnativo. Insomma, siamo arrivati finalmente a Lukla, da Lukla abbiamo preso l'aereo che per fortuna non è precipitato e siamo poi atterrati in un aeroporto, in una valle, da lì abbiamo preso un pulmino che ha percorso per 4 ore e mezza delle strade assolutamente accidentate e siamo tornati a Kathmandu dove siamo rimasti tre giorni a visitare la città. È stata un'esperienza fantastica, veramente fantastica, che non è inaccessibile, è possibile farla anche a tantissime persone l'hanno fatta e la stavano facendo insieme a noi. può essere fatta, non è assolutamente complicato, bisogna essere un po' preparati e soprattutto sperare che il fisico regga all'altitudine. E veramente, io la considero, questo è il viaggio veramente più importante che abbia fatto. Spero di farlo in seguito, ma non so, vedremo. Grazie a tutti.